E la punta. Si dice che un individuo ha fatto una scoperta, ma in realtà egli è la punta della forma coscienza dell'umanità che è giunta ad intuire quella scoperta. Per fare un esempio, Guglielmo Marconi ha scoperto le onde radio perché era l'individuo più acuto della forma coscienza dell'umanità che già sentiva la scoperta della radio.